Caro Benzina, per i venditori ambulanti del mercato di Sernia vale ancora la pena fare tutti questi chilometri per venire qua? Ma al momento no, perché già siamo messi male prima, adesso è ancora peggio, però speriamo che cambiano un po' le cose. Che futuro può avere il mercato di Sernia? Dopo la pandemia e dopo l'aumento dei posteggi, arriva anche il caro Benzina a dare il colpo di grazia ai venditori ambulanti. Le bancarelle in piazza Andrea di Sernia sono decimate e i clienti spendono sempre meno a causa del caro vita. La pandemia, le restrizioni e i lunghi mesi senza poter lavorare avevano già aperto delle crepe, ma ora, con il prezzo del carburante che sale sempre più, per molti non vale più la pena vendere al mercato di Sernia. Voi da dove venite? Noi da Caserta. Quanto spendete di gasolio per arrivare qua? Abbastanza. Più altre spese comunque, perché sono aumentate tutte le spese. Le vendite vanno, ma alla fine non ne vale la pena. Invece di guadagnare 100 euro ne guadagniamo 80 e si cammina, con la speranza che le cose migliorino. Anche se andiamo pari pari e andiamo avanti lo stesso, che dobbiamo fare? Questo sappiamo fare. Il gasolio è quello che è, poi la macchina non è che fa 14, 15, 18, 9, 10, è il posteggio e dobbiamo fare un po' i conti, insomma. Delle volte ci rimettiamo. Vale ancora la pena venire al mercato di Sernia? Penso di no, come siamo commessi adesso, è troppo pesante come prezzi e allora il caro prezzo non ci usciamo più. Veniamo per non stare a casa, però che verrebbe non venire, guarda, sinceramente non so cosa fare e cosa faremo man mano che andremo avanti, sinceramente. Speriamo che questa cosa finisca più presto, se no qua andiamo male, 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 tutti quanti. Il commercio ambulante è sempre più in crisi e le conseguenze della guerra in Ucraina dopo i rincari di bollette e benzina minacciano anche di danneggiare quella che un tempo era un'attrazione del centro storico di Sernia.